C'è tanta mondezza che sta sovrastando me, finalmente arriva lunedì Ma la cosa brutta amico lo sai quale, che ho mangiato pesce giovedì Mi sono mangiato i calamari, gamberi arrosto quattro giorni fa ed ho buttato tutto nel mastello Quel bastardo non mi ha voluto aspettare e non mi ha fatto manco fare le scale e se ne è andato proprio sul più bello Lo spazzino, lui arriva molto prima del postino, sempre bello arzillo già di buon mattino E poi se ne è andato sul suo furgoncino Lo spazzino, ora mi ha lasciato in un bel casino ed intorno a me puzza di bronzino ed ho intossicato pure il mio vicino Oia come posso fare, ho molta vergogna, pensano nel palazzo che si è rotta la fogna Oia come posso fare, sono rovinato, c'è pure l'uovo marcio e un pannolino cagato De vizia, la mondezza che non ti vizia Oia come posso fare, ho molta vergogna, pensano nel palazzo che si è rotto